Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti. In apertura parliamo di sanità, nuova riunione dei sindaci della provincia di Isernia in difesa dell'integrità funzionale del Veneziale, messa a rischio dal nuovo piano operativo. I sindaci sono molto preoccupati, visto che già attualmente, come documentato dal Sole 24 Ore, la provincia di Isernia è prima in Italia per la migrazione dei malati, che scelgono ospedali di altre regioni per farsi ricoverare. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Emergenza Sanità, nuova riunione dei sindaci convocata al Comune di Isernia per organizzare una manifestazione a Roma presso il Ministero della Salute. Le bozze del nuovo piano operativo spavendano i sindaci della provincia di Isernia perché l'unico ospedale provinciale, dotato di quasi tutti i servizi, e si parla del Veneziale, corre il rischio di essere trasformato in un punto di primo intervento e smistamento dei malati verso altre strutture ospedaliere. Ne si trova conforto nei nuovi dati statistici forniti dalla cosiddetta Griglia LEA 2018, che vedrebbe la nostra regione ottenere 180 punti, tanto da far dire al Tavolo Tecnico di Roma che i livelli essenziali di assistenza testimoniano la capacità della regione di rispettare il sistema universale delle cure. Una visione della realtà, quella del Tavolo Tecnico, che fa pugni però con la realtà dei numeri di altri indicatori, come quelli diffusi dal Sole 24 Ore nel suo rapporto sull'Indice Provinciale della Salute, che al contrario di quanto affermano al Tavolo Tecnico di Roma, certifica che il sistema sanitario molisano è al collasso, avviato a un punto di non ritorno. I numeri parlano chiaro e dimostrano che la provincia di Isernia è la prima in Italia per la fuga dei malati dai propri confini. Circa il 30% delle persone che indendono ricoverarsi lo fa in strutture ospedaliere di fuori regione. A Campobasso non va molto meglio se Isernia è prima in Italia per migrazione dei malati, Campobasso è la quarta, con più del 25% delle persone che vanno a ricoverarsi fuori regione. E' sempre l'Indice della Salute del Sole 24 Ore ci dà altre preziose informazioni, come quella che l'aspettativa di vita vede Isernia al quintultimo posto in Italia, mentre Campobasso è all'ottantottesimo posto nella parte bassa della classifica, giusto per sfatare un altro luogo comune. Quello che in Molise si vive bene è più a lungo, tutte sciocchezze. Non è affatto vero, soprattutto se la sanità non funziona come dovrebbe. Le province con la migliore aspettativa di vita sono Gorizia, Trieste e Biella. E chiudiamo con i dati relativi all'infarto, visto che a Isernia c'è l'intenzione di togliere emodinamica, che nel 2018 ha effettuato 450 interventi, salvando altrettante vite. Ebbene, Isernia si classifica all'ottantottesimo posto, con 2,6 morti per infarto ogni mille abitanti. Un po' meglio va a Campobasso, 81, con 2,5 morti ogni mille abitanti. Questi sono i numeri del Molise e non parlano certo di una sanità in buona salute, tanto che chi può sceglie di andare a farsi curare fuori. E adesso una notizia di cronaca. Tragico incidente sulla Trignina dopo le 18 in territorio abruzzese. All'altezza di Lentella, in un tratto rettilineo, una donna è stata investita da una utilitaria che si dirigeva verso Isernia. Sulla zona era già buio e l'impatto è stato violentissimo. Per la donna di circa 30 anni non c'è stato nulla da fare, morta sul colpo. Sul posto i carabinieri e l'ambulanza del 118 ai militari. Il compito di ricostruire la dinamica e capire il motivo per cui la donna si trovasse a piedi in quel punto sulla statale, il traffico ha subito forti rallentamenti. Rotta l'attacca all'ospedale Santimotio di Termoli, accaduto ieri pomeriggio a causa del disservizio, i pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali, anche fuori regione, per gli esami diagnostici. L'attacca sarà sottoposta dai tecnici a verifiche per ripristinarne la funzionalità al più presto. E la notte di sabato a Isernia, in una discoteca poco distante dall'ospedale, nel corso di una discussione, un ragazzo di 20 anni di Fornelli è caduto dal muretto di un terrazzo attivo. Alla discoteca gravi le ferite riportate dal ventenne, subito portato al pronto soccorso del Veneziale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Si parla di trauma cranico con emorragia cerebrale, fortunatamente di piccola entità. Sulle circostanze dell'accaduto indaga la squadra mobile per accertare eventuali responsabilità. E adesso la politica seduta monotematica domani del Consiglio regionale, convocato su richiesta dell'opposizione e di due consiglieri di maggioranza, per fare chiarezza sui concorsi banditi dalla Regione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale. Un consiglio che si annuncia ad alta tensione, visto che su questo argomento, già la scorsa settimana, la maggioranza è andata sotto. Ci dice tutto. Anna Maria Di Matteo. Si annuncia ad alta tensione la seduta monotematica del Consiglio regionale, convocata per domani mattina. Una convocazione che è arrivata in seguito alla richiesta presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, del PD e sottoscritta anche dagli esponenti di maggioranza Iorio e Calenda, per fare chiarezza sui concorsi banditi dalla Regione per l'assunzione di 10 dirigenti e 14 amministrativi. Il Presidente della Regione Donato Toma, finito nella bufera, sarà dunque chiamato a dare risposte sulle procedure seguite per il reclutamento del personale da assumere alla Regione con contratto a tempo indeterminato. Già la scorsa settimana, in occasione della seduta del Consiglio, la maggioranza, proprio su questo tema, era andata sotto. L'Aula, con i voti dell'opposizione e di quelli di tre consiglieri dissidenti, aveva infatti approvato la proposta presentata da Greco che chiedeva l'annullamento dei bandi destinate e l'assunzione dei dirigenti. In Aula, aveva denunciato l'esponente dei 5 Stelle, c'è chi ha detto di aver ricevuto i nomi dei vincitori e questo è inaccettabile, ha concluso Greco, che ha annunciato di aver inviato tutta la documentazione in procura. Insomma, l'accusa del Consigliere di Opposizione, un concorso fatto su misura per alcuni dipendenti interni pronti all'avanzamento di carriera, imbarba quella trasparenza rispetto della meritocrazia da più parti auspicati. Il voto di martedì scorso ha aperto uno squarcio sull'attuale situazione politica in seno alla maggioranza, defezioni pericolose rispetto a quella che è la linea del governatore che possono avere conseguenze pesanti sulla tenuta degli equilibri già fragili della coalizione. La seduta di domani rappresenta un banco di prova importante per la maggioranza e soprattutto per il Presidente della Regione Toma. Si sono svolti oggi pomeriggio a Roma nella chiesa di Santa Maria degli Artisti funerali di Fred Bongusto scomparso la scorsa settimana a 84 anni. Al rito funebre hanno partecipato anche il Sindaco di Campobasso Roberto Gravina e l'assessore alla cultura Paola Felice con il gonfalone della città. Un poeta che ha scritto pagine memorabili nel panorama della musica italiana ha detto nell'Omelia il parroco che ha ricordato anche l'uomo Bongusto. Molti gli amici partiti da Campobasso tra i quali anche l'autore del filmato che state vedendo Nicola Mucci che ha voluto essere accanto alla famiglia e alla nipote e tanti molisani che risiedono a Roma sono accorsi per dare l'ultimo saluto a Fred Viola Valentino Edoardo Vianello il maestro Mazza tra i volti dello spettacolo. E adesso parliamo di elezioni perché l'anno che sta per arrivare salvo clamorosi colpi di scena in Molise sarà segnato da poche sfide alle urne e tutte riguardanti i piccoli centri con due casi sicuramente però più rilevanti quelli di Boiano e Montenero di Bisaccia con Enzo Luongo andiamo a vedere la mappa del voto molisano nel 2020. quali sono le prossime sfide elettorali in Molise facendo un po' di calcoli il quadro che emerge dice che salvo clamorosi colpi di scena non ci sono grandi scadenze imminenti per la regione si è votato un anno e mezzo fa per le politiche idem come si è votato da pochissimo anche per i sindaci dei due centri più grandi Campobasso e Termoli mentre Isernia sceglierà il nuovo sindaco solo nel 2021 nel 2020 dunque ci si concentrerà su poche sfide locali con un paio di casi sicuramente più rilevanti degli altri complessivamente sono 17 i comuni molisani che la prossima primavera quasi certamente nel mese di maggio andranno alle urne per rinnovare le loro amministrazioni comunali in provincia di Campobasso la sfida delle sfide è quella di Boiano 8.000 abitanti nel centro matesino come è noto il sindaco Marco Di Biase si è dimesso durante l'estate ed è dunque arrivato il commissario si andrà a votare un anno prima della scadenza naturale del mandato Di Biase era stato eletto infatti nel 2016 altra competizione molto attesa è quella di Montenero di Bisaccia 6.600 residenti nel paese di Antonio Di Pietro si vota a scadenza naturale considerato che il sindaco uscente Nicola Travaglini fu eletto nel 2015 gli altri centri della provincia interessati alla mini tornata elettorale sono Boneifero Casal Ciprano Cerce Piccola Lupara Pietracatella Pietracupa Provvidenti Roccavivara e San Giuliano del Sannio in provincia di Isernia sono invece sei i comuni interessati quello più grande è Sesto Campano 2.300 abitanti ma ci sono anche Montenero Valcocchiara Poggio Sannita Pozzilli Rocca Sicura e Sant'Angelo e Sant'Angelo del Pesco Una task force regionale per la tutela e il contrasto delle violenze a danno di persone minorenni è il titolo della proposta di legge della consigliera Filomena Calenda che prevede la costituzione di una task force permanente antiviolenza l'organismo avrà il compito di attivare un servizio specifico per il contrasto delle violenze e tutelare i minori la task force affiancherà la rete dei servizi già presenti la proposta di legge passa ora all'esame della commissione competente prima di giungere all'attenzione del consiglio regionale per le determinazioni conclusive sono soddisfatta del voto favorevole del consiglio al mio ordine del giorno che prevede le sedie job nelle spiagge e negli stabilimenti balneari Molisani lo ha dichiarato Aida Romagnolo a proposito dell'introduzione delle sedie a ruote gonfiabili studiate appositamente per la balneazione dei soggetti portatori di handicap che permettono un facile accesso all'acqua e alla possibilità di effettuare passeggiate sul bagnasciuga Donare cibo in eccedenza in cambio di sgravi fiscali parte a termoli il progetto Profit No Profit rivolto agli operatori del terzo settore per abbattere lo spreco alimentare e allo stesso tempo aiutare le famiglie in difficoltà ci racconta tutto nel servizio Manuela Iorio Donare alimenti in eccedenza e allo stesso tempo aiutare non solo le persone in difficoltà economiche ma ottenere anche sgravi fiscali per la propria azienda ora è possibile grazie a un progetto già intrapreso dal comune di Milano che ha sposato anche il comune di Termoli portato avanti dall'associazione COVSAL in collaborazione con lo studio CONSA e con la CONFESERCENTI si chiama Profit No Profit e partirà dalla formazione degli operatori che aderiranno e che ci sarà nelle giornate del 14 del 21 e del 28 novembre infine il 6 dicembre un corso gratuito aperto a piccole attività commerciali ai ristoranti e alle catene della grande distribuzione Il progetto PMP Profit No Profit nasce tramite la possibilità che ci è stata data dal CSV Molise quindi dal centro servizi volontariato che tramite un'attività di ricerca svolta dall'associazione COVSAL ha notato come vi era un eccesso di spreco alimentare di prodotti da parte di attività come supermercati e negozi alimentari da qui nasce il progetto di formare tramite corsi di formazione gratuiti tutti gli operatori quindi entri del terzo settore attività commerciali e associazione nella donazione degli alimenti Le aziende che aderiscono possono ottenere agevolazioni sull'IVA e riduzioni sulla tassa dei rifiuti Che tipo di prodotti possono essere donati? Allora la legge Gadda la 166 del 2016 stabilisce dei parametri relativi alla tipologia di prodotti che possono essere donati ad esempio prodotti invenduti in seguito ad attività promozionali oppure prodotti che hanno anche superato il TMC quindi il da consumarsi preferibilmente entro oppure prodotti legati a sbagliate previsioni di vendita ma comunque devono avere tutti ancora i requisiti di sicurezza alimentare L'amministrazione ha subito aderito al progetto sposando la campagna contro lo spreco alimentare Devo dire che è un progetto davvero interessante per tutta una serie di motivi intanto perché ripeto dà sostegno ai più bisognosi e aiuta quindi tante persone in difficoltà ma aiuta anche lo smaltimento dei rifiuti perché sono alimenti che ovviamente nel momento in cui riusciamo a riciclarli tra virgolette non devono essere smaltiti sta per iniziare nelle scuole una campagna di sensibilizzazione alla riduzione dello spreco alimentare intanto aumentano le famiglie che hanno difficoltà a mettere qualcosa sulla tavola io in assessorato ogni giorno trovo delle persone che mi vengono a chiedere aiuto aiuto di ogni genere economico ma anche alimentare perché a volte ci sono delle associazioni che non hanno più prodotto e quindi non possono più conferirlo Denunciato a piede libero per furto un 48enne di Campobasso già noto alle forze dell'ordine a lui i carabinieri del capoluogo sono risaliti grazie all'esame del DNA nel compiere un furto in un negozio cittadino il ladro si era ferito e aveva perso del sangue con le analisi del RIS i carabinieri hanno accertato la sua identità e lo hanno denunciato alla autorità giudiziaria dal prossimo primo gennaio una serie di novità per i commercianti saranno introdotte dal cosiddetto collegato alla finanziaria 2019 per non farsi trovare impreparati la Confcommercio del Molise ha voluto promuovere una serie di incontri sul territorio per fornire tutte le informazioni necessarie il primo appuntamento si è tenuto a Campobasso tutti i dettagli nel servizio di Fabiana Bazzia un tour sul territorio promosso dalla Confcommercio a supporto degli imprenditori a fronte della prossima entrata in vigore delle modifiche apportate dal cosiddetto collegato alla finanziaria 2019 per i commercianti al minuto e tutti i soggetti assimilati dal primo gennaio 2020 scatterà infatti l'obbligo di memorizzare elettronicamente e di inviare telematicamente i corrispettivi all'agenzia delle entrate un passaggio netto che va a sostituire comportamenti radicati nella vita lavorativa di un esercizio legati alla vecchia chiusura di casse per il quale la Confcommercio ha inteso promuovere una serie di incontri finalizzati a dissipare i dubbi e a fornire tutte le informazioni necessarie anche quelle relative alla necessità di riconvertire i sistemi attualmente in uso nei registratori telematici la prima tappa del tour ha preso il via a Campobasso per proseguire poi a Eserni il 13 novembre il giorno successivo a Termoli appuntamento invece ad Agnone il 19 novembre e il 20 a Venafro gennaio infatti alle porte ed è importante non farsi trovare impreparati il non rimandare l'appello è proprio quello ad informarsi e quindi a partecipare anche ai nostri incontri sul territorio perché magari oggi diamo per scontato qualcosa oppure diciamo vabbè poi faremo contatteremo il commercialista ma in realtà poi già dal primo giorno ci troveremo magari ad affrontare delle situazioni e non sappiamo come comportarci se non cambierà quasi nulla per i consumatori cosa muterà invece per gli imprenditori la differenza fondamentale è che a fine giornata la macchina il registratore telematico automaticamente invierà il totale dei corrispettivi all'agenzia delle entrate tutto questo secondo quello che dicono a livello centrale servirà per un maggior controllo una maggiore tempestività non ci sarà più l'obbligo del registro dei corrispettivi non ci sarà più il libretto di uso e manutenzione del registratore di cassa però di contro ci sarà l'obbligo di avere il registratore di cassa connesso ad internet mi domando ora per quelli che stanno nei paesi dispersi del Molise come faranno ad avere una trasmissione quotidiana ovviamente l'agenzia delle entrate ha pensato anche a questo e ci sono delle modalità che si adottano per trasmettere i corrispettivi anche se non si è perennemente connessi ad internet quindi nessuna paura nessun timore grande soddisfazione per l'arma di Campobasso due sotto ufficiali in forza da molti anni al comando provinciale con diversi incarichi in provincia hanno superato una difficile selezione a livello nazionale per la nomina di un numero ristretto di nuovi ufficiali dell'arma sono i sottotenenti Giuseppe Nestola attualmente in servizio alla compagnia di Larino e Ugo Funaro per molti anni in servizio alla compagnia di Boiano nominati sottotenenti hanno intrapreso da pochi giorni la frequenza di un corso di aggiornamento presso la scuola ufficiali carabinieri di Roma per poi essere destinati ad incarico di comando di reparti retti da ufficiali in una breve cerimonia i due militari hanno dapprima ricevuto le congratulazioni del colonnello Emanuele Gaeta comandante provinciale dei carabinieri di Campobasso del tenente colonnello Raffaele Iacuzio comandante della compagnia di Larino e del tenente Edgar Pica comandante della compagnia di Boiano e di tutti i colleghi delle rispettive compagnie andiamo andiamo ora all'isis cuoco manoppella di Isernia dove i ragazzi hanno incontrato la scrittrice Maria Pia Veladiano si sono confrontati sui contenuti del romanzo la via accanto tra l'altro vincitore del premio Calvino e secondo classificato al premio strega il servizio è di Sergio Di Vincenzo La vita accanto racconta la storia di Rebecca una bambina brutta ne è consapevole al punto di privarsi della gioia di scoprire il mondo di uscire di casa durante il giorno è infelice ma questa bambina ha anche un grande talento quando suona il pianoforte incanta tutti con melodie bellissime proprio questa sua grande passione le permetterà di riscattarsi di scoprire la debolezza e l'imperfezione degli altri di capire meglio se stessa e di comprendere che la vita ha tanto da dare e che lei ha tanto da dare alla vita dopo aver letto questo romanzo gli studenti di scienze umane del liceo linguistico del cuoco Manoppella di Sernia protagonisti di un progetto di lettura pedagogica e psicoanalitica curato da Graziella Iannuzzi si sono confrontati con l'autrice Maria Pia Veladiano in realtà la scuola nella misura in cui impara fa imparare ai ragazzi la reciproca conoscenza è un antidoto fondamentale contro ogni forma di esclusione io credo lo dico sempre la scuola è il laboratorio più importante di condivisione della propria vita di inclusione e la scuola pubblica ha questo ruolo perché raccoglie ogni tipo di persone di bambino che arriva e questo fatto ci aiuta a fare una società di pace questo romanzo tra l'altro vincitore del premio calvino è secondo al premio strega affronta anche un altro tema purtroppo sempre attuale nelle scuole ma non solo quello del bullismo la protagonista Rebecca subisce diverse umiliazioni dai suoi compagni di classe nel caso del libro del libro la vita accanto l'episodio nasce da una sostanziale diciamo incapacità di lettura dei disagi da parte dell'adulto molto spesso scogliendo i segni i sintomi in modo precoce anche intervenendo anche in modo leggero con la capacità riparativa che ha il rapporto educativo questo bullismo può essere diciamo contenuto e prevenuto ecco io non credo molto invece nei corsi contro il bullismo credo che ci sia da mettere in atto diciamo una rinnovata capacità di osservare e di ascoltare nel decimo anno della morte di Alda Merini il premio del concorso nazionale a lei intitolato è stato vinto dalla scuola di Vinchiaturo che ha partecipato con i lavori dei suoi piccoli alunni oltre 1600 le poesie arrivate da tutta Italia nelle sezioni infanzia primaria e scuole medie alla cerimonia di premiazione che si è svolta nel teatro Litta di Milano erano presenti gli scolari di Vinchiaturo che ovviamente oltre al primo premio hanno ricevuto anche i complimenti di Claudio Bisio che ha presentato la serata il premio consiste in 50 libri di poesie per ragazzi da regalare alla scuola ai vincitori di Vinchiaturo anche le congratulazioni della redazione di Telemolise sabato a Limatola in provincia di Benevento sono stati inaugurati i mercatini di Natale quest'anno nella suggestiva location del castello di Limatola promozione del Made in Italy ma anche prodotti provenienti da tutta Europa ascoltiamo il servizio di Antonio Di Lallo Beppe Vessicchio e Stefano Sgueglia siamo qui al castello di Limatola cadu al castello una presenza insomma la sua Vessicchio veramente insomma qualificata e qualificante ma insomma questo non lo posso dire io io sono amico di Stefano e sono contento che lui mi abbia invitato perché l'anno scorso sono venuto abbiamo anche fatto un piccolo concerto con un'orchestra da camera all'interno della cappella e sono rimasto veramente colpito dall'ingegno e dalla passione che lui e soprattutto Pina che ha ideato tutto questo allora hanno profuso in questa iniziativa è un'iniziativa che con il numero di visitatori che ha segnala quanto loro hanno interpretato quello che di necessario c'è e soprattutto l'hanno collegata ad una struttura così emblematica che è il castello su un territorio insomma ti faccio i complimenti perché non c'ero mai stato ed è veramente un piacere e un onore essere qui niente qui è un esempio che probabilmente le cose quando vanno fatto bene vanno fatto bene riescono e il merito come sempre non è solo mio è molto di mia moglie che molti anni fa ha creduto in questo progetto non è stata lei a inventare i mercatini di Natale sicuramente ma al sud è stata in un castello secondo me è stato uno delle prime l'esperimento che più andiamo avanti più ci siamo reso conti che riesce ed è riuscito tanto da allarmare le forze pubbliche allarmare i prefetti e tutti cercando anche di limitarci nel numero delle persone per una questione di sicurezza perché quest'anno non so se avete visto abbiamo cercato di limitare un poco gli ingressi sia la mattina che il pomeriggio per far sì che tutta l'Italia possa visitare questa meraviglia dico io perché poi le facciamo le cose ma le facciamo con emozione si sente le facciamo perché ci crediamo perché con passione poi quando escono escono tutti quanti sorridenti significa qualcosa Castello di Limata non è solo mercatino di Natale ma sono cerimonie e matrimoni tutto l'anno certamente ma per venire occorre prenotare conviene non avventurarsi perché altrimenti si fanno file in credito si rischia di non entrare si rischia di non entrare nonostante la pioggia e il maltempo dello scorso sabato tante sono state le presenze a Gildone per il tradizionale Giro di San Martino l'evento dedicato al vino novello e soprattutto ai piatti tipici che mira alla riscoperta del centro storico tutti i dettagli nel servizio di Fabiana Bazzia riscoprire la tradizione di San Martino degustando piatti tipici e buon vino all'interno delle cantine allestite lungo il caratteristico centro storico di Gildone in tanti hanno voluto prendere parte alla manifestazione che ha visto un intero paese collaborare per la buona riuscita dell'evento tante anche le persone provenienti da fuori regione che hanno avuto modo di apprezzare la cucina molisana il tempo non è stato proprio dalla nostra parte infatti ci ha rallentato moltissimo un po' i preparativi però nonostante ciò grazie al moltissimo impegno che abbiamo messo tutti noi siamo riusciti anche quest'anno a presentare un bellissimo giro di San Martino sesta edizione voglio dire diciamo un po' a tutti quanti veramente grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano e hanno organizzato le cantine in questi giorni tutte le persone stanno dietro alle cantine il tempo è un po' però comunque non abbiamo desistito e siamo venuti comunque lei è originaria di qui esatto sì sono nata qui però sono poi volata a Roma da piccolina però ritorniamo molto felicemente insomma questo è il legame con il Molise sì sì cerchiamo di portare le nostre tradizioni anche a Roma con le tradizioni molisane anche a Roma al di fuori dei confini regionali avete coinvolto anche degli amici come sta andando? benissimo bello un poesia accogliente? molto molto anche la cucina ottima piatti tipici come pizza in minestra la lassata sono piatti magari sconosciuti al resto d'Italia ma sono piacevolissimi pasta e fagioli baccalà rakanato pizza in minestra sono stati solo alcuni dei piatti proposti durante il giro di San Martino manifestazione che punta alla valorizzazione di un centro storico dove veri fautori sono i giovani il segreto di questo piatto ce lo può dire? la materia prima olio d'oliva extravergine pomodori di casa e salsa casarice e nient'altro in questa cantina vediamo giovanissimi bambini ragazzi persone un po' più mature che condividono la preparazione condividono il lavoro è bello andiamo a mandare avanti questa tradizione perché sono siamo poca gente allora familiarizziamo tutti insieme aiutiamo i ragazzi a invogliarli a farli andare avanti così e i ragazzi come la vivono secondo lei c'è impegno da parte loro li vediamo al lavoro sono 15 giorni che lavorano questi ragazzi per queste cantine è bella soddisfazione molto molto bella bene si chiude qui l'ultima edizione del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione e con la rassegna stampa a voi tutti buonanotte grazie a tutti